Dalle prime luci dell'alba di oggi è stata avviata la demolizione di 25 alloggi abusivamente costruiti su un terreno di proprietà della Curia in via dei navigatori sul litorale di Ponte Cagnano-Faiano. L'operazione, coordinata dal settore urbanistica del comune, ha visto la supervisione dei carabinieri della compagnia di Battipaglia e degli agenti della polizia locale di Ponte Cagnano-Faiano. Gli alloggi, nove dei quali ancora abitati da altrettante famiglie, presentavano precarie condizioni igienico-sanitarie in un contesto già piuttosto degradato. L'intervento si è reso urgente e necessario per il ripristino della legalità in un territorio fortemente condizionato da fenomeni di abusivismo, furti e prostituzione. Sessore, un'operazione importante questa mattina sulla Litoranea? Sì, molto importante. Quindi di ripristino della legalità in una zona altrimenti veramente degradata sotto tutti i punti di vista. Questa amministrazione, con il sindaco Lanzara, tiene molto a quest'area, tiene molto al recupero di quest'area. Stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative tese al recupero ambientale, al recupero legale di un'area che noi, come amministrazione, reputiamo strategica per la nostra città. Inoltre, naturalmente, volevo ringraziare il corpo di Polizia Municipale che in questa giornata è stata attivamente qui sul posto a svolgere le proprie mansioni, ai carabinieri con il maggior esisto e quindi tutte le forze dell'ordine che in questa giornata, grazie anche alla loro attività, hanno visto su questo territorio il ripristino della legalità. Erano anni, e qui ricordo anche il nostro amico Mimmo Malangone, erano anni che non avveniva un'attività del genere sulla ritoranea. Questo significa che noi abbiamo come amministrazione una visione della città, abbiamo una visione dello sviluppo sostenibile nella nostra città, abbiamo una visione della legalità e su queste basi vorremmo che poi i cittadini potessero in qualche modo dire, anche dire a loro e potessero accompagnare questa amministrazione che ce la sta mettendo veramente tutta. La prima attività che verrà fatta è proprio la messa in sicurezza dell'amianto, quindi il recupero dell'amianto, l'imbustamento dell'amianto e quindi questo durerà un paio di giorni. Poi dopo aver fatto la bonifica dell'amianto segue naturalmente la demolizione vera e propria. Anche qui le attività saranno abbastanza lunghe perché poi demolire sì, ma poi bisogna caratterizzare i rifiuti e naturalmente portarli in discadica presso i cintri autorizzati.